buongiorno e buon lunedì allora pollicione se volete iscrivervi vi ringrazio attivate la campanina per ricevere notifiche e ringrazio di quelli che condividono commento e sostengono questo canale prima di tutto un'informazione di servizio io questa settimana sono stra impegnato ma veramente sono impegnatissimo dovrà anche richiamare del tempo per andare a fare una commissione per una persona e veramente farò fatica per cui a rispondere sotto i video ci sarà solo jack che lo farà nei momenti di pausa o dopo le sette di sera quindi non preoccupatevi se non vedete nessuna risposta magari dopo una o due ore da che avete scritto il commento ci vuole abbiamo bisogno un attimo di tempo mi dispiace lo sapete ma ho anche il mio lavoro questo non significa che vi abbandono come come fa qualcun altro ma semplicemente che anch'io le mie difficoltà tra l'altro questa è una settimana importante perché ci saranno le lavorazioni di della ricarica ordinaria di giugno lavorazioni che saranno tra il 23 e il 24 noi vi avviseremo subito ovviamente i video magari li preparo la sera o li preparo la mattina presto per dire anche alle 5 alle 4 se necessario nel momento in cui ci saranno vi avviseremo saranno probabilmente tra il 23 e il 24 con ricarica al 27 sperando che vada tutto liscio non ci sia il macello del mese scorso su cui vabbè bisognerebbe aprire un'inchiesta ma figuriamoci se qualcuno lo farà il merito invece a queste di metà mese stanno facendo delle lavorazioni per gli arretrati su rdc quindi chi aspettava gli arretrati controlli magari domani e dopodomani a vedere se hanno comparsa la lavorazione e l'invio di disposizione alle poste perché stanno facendo le lavorazioni extra che riguardano soltanto gli arretrati quindi gli altri lasciano stare guardano solo quelli che hanno degli arretrati da prendere ci sono invece dei problemi in merito al bonus figli disabili problemi che però sono derivati da una cosa sola stanno esaurendo i fondi io mesi e mesi fa l'aveva detto anche elena l'aveva detto anche i ragazzi di radio ucci mi sembra che l'avesse detto anche mister lull di fare in fretta fra la domanda perché avendo un tetto di fondi cioè il classico fino esaurimento fondi avendo un tetto di fondi limitato i primi che arrivavano erano quelli che hanno più possibilità di prendere il bonus chi arrivava dopo rischiava di non prendere niente e la situazione è questa i fondi sono esauriti e anche se avete il diritto di avere quel beneficio non ci sono i soldi per darvelo quindi sì vi dicono sì sì siete idonei però i fondi sono finiti e riprovate l'anno prossimo io li avrei rifinanziata in questa misura ma non so preferiscono riutilizzare i soldi avanzati praticamente tutti del buono psicologo perché quasi nessuno ha riuscito a usarlo gli psicologi erano introvabili mi metto anche nel loro panni e se ti vengo a dire guarda io vengo qui da te però tanto ti paga l'inps tra quando quando cavolo ne ha voglia e cioè io immagino la faccia del psicologico e senti dai prendiamoci in giro quelli scrausi magari lo accettano quelli appena appena un po bravi dicono senti lasciamo perdere per cui controllati se siete in questa condizione sappiate che il problema probabilmente è questo dicevo spero non si ripeta appunto il macello del mese scorso io penso di no non tanto sulla lunghezza delle lavorazioni visto che queste persone mentre durante tutto il mese si grattano devono fare controlli supplementari proprio in quei momenti vabbè non so tenete conto che i settori sono sempre meno e questa è la penultima ricarica per molti cioè ad agosto ce ne sarà poco più della metà di quelli che ci saranno che ci saranno a luglio cioè spareranno tutti quelli che secondo loro sono occupabili stante così le cose mi gradisco ed è una cosa su cui insisto molto noi possiamo rispondere solo su quello che c'è adesso sono stati presentati degli emendamenti sono stati presentati delle modifiche noi potremmo dirvi come cambiano le cose soltanto quando la legge era convertita tra l'altro io scusatemi ma sette giorni di lutto nazionale ma non li hanno fatti per nessuno nella storia italiana per nessuno e per sette giorni il parlamento è paralizzato quindi altro tempo perso quando c'è bisogno di correre loro non solo rallentano ma si fermano e non parlo soltanto della questione rdc della questione decreto lavoro io parlo anche della questione pnrr perché dall'europa le pressioni stanno aumentando e questi vanno alla velocità ma anche della lumaca loro confronto la lumaca un razzo ma poi ci lamentano dicendo che non sappiamo come usarli ma cara mia se io ti do tutti quei soldi e tu non riesci usare e mi viene dubbio che il deficiente non sono io che te li do ma se tu che non li sai che non li sai impiegare perché di cose da fare con quei soldi ce ne sarebbero una valanghe in italia se non se non le sai fare e allora due più due se c'è alcun incompetente comprati uno specchio per cui io noi vi rispondiamo sulla base di quello che sappiamo adesso io ve l'ho detto che spero auspico io spero che venga illuminata da un raggio dal cielo che capisca che la soluzione più semplice invece sarebbe stata mandare a scadenza naturale tutti cioè alla fine dell'anno e intanto lavorare un po più serenamente un po più tranquillamente a sistemare il disastro che è stato certificato dall'istat cioè se un quarto della popolazione italiana rischio povertà e non la si può prendere sotto gamba questa cosa non è che se non ascolti un dato questo dato scompare il dato rimane lì e sarà sempre peggio visto che ve l'ho detto non fanno alcun tipo di controlli sulle speculazioni degli aumenti dei prezzi le bollette stanno risalendo perché si sta tornando dentro tutto quello che avevano tolto e il valore degli stipendi che è sempre più basso perché l'italia al agli stipendi bassi d'europa ormai non regge più il peso dell'inflazione dei costi della vita allora due parole velocissime invece sul sulla manifestazione contentissimo che ci fosse tanta gente e spero che non ci fossero solo per cittori rdc anzi non credo che ci fossero solo per cittori rdc ci sarà anche gente che ha cominciato a capire che qua gli hanno presi bellamente per il culo tipo magari pensionati che speravano in aumenti seri quegli aumenti seri non ci sono lavoratori a basso reddito che si vedono togliere l' rdc che faceva la integrazione e quindi resteranno con poco niente io spero che ci fosse tanta gente ma per per convincere però a diventare più aggressivi sono contento che conte sia non sia venuto lì da paludato e guardate che anche quello il suo peso è mettersi in mezzo la gente con la in camicia al suo peso perché lo facevano una volta i vecchi leader comunisti sono felicissimo che sia venuto la slain ed evidentemente ha cacciato l'armocromista passatemi la battuta ma probabilmente l'armocromista non gli avrebbe detto di vestirsi di blu col caldo che faceva ma sono invece contento che sia andata lì si abbiano cominciato a parlare di cose serie di cose concrete del lavoro della povertà del mancato utilizzo del pnrr io non voglio un'alleanza organica adesso tra pd sinistra estrema parola grossa sinistra sinistra diciamo e movimento 5 stelle le alleanze organiche si fanno in prossimità delle elezioni adesso i due partiti devono viaggiare in parallelo ma avendo degli obiettivi comuni il primo obiettivo comune è dare un segnale forte e cominciare a mettere a soccuadro il paese per far capire a questo governo che queste cose non sono più accettabili che questa situazione non è più accettabile perché la gente non ce la fa più letteralmente e ormai la scusa del sono passati tanti mesi non vale più per niente perché in questi mesi hanno fatto più disastri di Bertoldo ubriaco quindi benissimo io sono un po meno contento che si sia rifatto vedere grillo e spiego il perché adesso il movimento 5 stelle quello di conte che ha vuoi per il doppio mandato vuoi per oggettiva incapacità ha fatto una certa epurazione io non vorrei che grillo che è tornato a parlare del rete universale e continua a dire una cosa cosa giustissima cosa su cui sono d'accordo ma su cui ci sono due eccezioni importanti la prima non lo si può fare dalla mattina alla sera perché richiede anzitutto di essere il governo e poi è un progetto estremamente vasto e complesso e quindi non si fa in pochi mesi la seconda la seconda ricordatevela è che fino a che il partito andava male grillo era sparito adesso il partito è un po in ripresa lui è tornato e non vorrei che torna a lui e mi porta dietro il reggimento di scalzacani scappati di casa impediti da alienati che c'era dentro il movimento 5 stelle creato da lui ok perché se cominciamo così cioè che lui torna in auce quando le cose vanno bene poi se ne va quando vanno male ecco io vorrei ricordare che il di maio il vigliacco il venduto il bibitaro se l'è portato dentro lui già russo ce l'ha portato dentro lui la toninelli ce l'ha portato dentro lui la castelli ce l'ha portata dentro lui cioè l'elenco è chilometrico qui ci vuole gente che ha voglia di fare ma soprattutto che ha buon senso che sa essere pratica che non fa ragionamenti voli pindarici che non è brava sui social ma che deve essere brava nel campo della vita normale nel campo di tutti i giorni non quindi niente più alienati ve l'ho detto grido deve starsene fuori lasci il governo del partito a conte perché sennò ricomincieremo a trovare dentro degli alienati degli storditi gente che si è persa ma che però è popolare sui social scusatemi ma visto visto il tipo di gente che è popolare sui social io me ne terrei bel lontano da mettere persone così a governare qualsivoglia cosa perché grillo non è vero che il movimento 5 stelle era dormiente il movimento 5 stelle era morto e tu l'hai abbandonato mentre stava agonizzando se l'ha ritirato su conte l'ha ritirato su lui lui l'appendino e pochi altri quindi non 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 tira fuori cose che non sono serve un partito concreto che affronti i problemi concretamente quindi io continuo insistere che conte la shine devono menare giù come fabri non accontentarsi delle discussioni ma devono diventare feroci aggressivi io quelli dell'ultra sinistra manco li conto quelli di avere una poltrona basta basta prometta gli alano correrebbero qualsiasi sì in qualsiasi posto ma non mettiamoci altri alienati non dico conte mi raccomando grillo lascia di dire quello che vuole è stato il padre reputativo ma non è che aveva tirato su per così dire sui figli in maniera impeccabile lascia di dire quello che vuole ma nel momento in cui volesse se proporti un altro di maio di no grazie abbiamo già dato se proprio vogliamo mettere in toni ironico se dovesse dirti vengo anch'io conte rispondi no tu no ciao a tutti